Allora ragazzi questo è un gioco horror Finalmente abbiamo capito come funziona Aspetta 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 Mi muto su discord da adesso in poi Certo anche io ci sono su discord Vai parla Scribidi toilet Parla ancora Scribidi toilet Mi senti? Sì sì ti sento Tu rimani mutato qua Cioè smutato Dove devo andare? Che devo fare? Tranquilli allora se a dia voi non lo sentite Perché sta sull'edal company Io vi devo rinvitare ragazzi Che state aspettando? Ok Oh Leo Mutati su discord Leo Ok così abbiamo anche Cristo Tu non devi mutarti Cristo Devi accettare l'invito bro Grazie infinite Cori Scribidi toilet Grazie Oggi ragazzi game Scribidi toilet Scribidi toilet Guardate ragazzi sono tutti gli skipi di toilet Sono tutti gli skipi di toilet Guardate quanto sono veloce Skipi di toilet Oggi iniziamo malissimo Skipi di toilet Skipi di toilet Wow ragazzi Skipi di toilet Skipi di toilet Skipi di toilet Allora ragazzi basta Oh c'è Cristo Christ Allora Cristo Buonasera ciao ragazzi Skipi di toilet Skipi di toilet Benvenuti sull'edal company Faccio una piccola introduzione a Cristo Perché non è Buonasera Come fai a indicare? Oggi ragazzi ci cagliamo addosso vero? Oggi ci si caga addosso Guardatelo è nuovo Non sa cosa gli aspetta Non lo zanno Ragazzi se mi regalate adesso 500 sub Faccio vedere la foto di Cristo Ce l'ho ce l'ho Faccio il peso di video di Cristo Per 500 sub Io faccio per 300 Io lo faccio per 300 ragazzi 250 200 230 Va bene 198 Ragazzi 80 80 sub Questa è la faccia di Cristo Abbiamo 80 sub 80 sub 80 sub E lui E lui E lui E lui Ecco la ragazzi Questa è la sua vera Abbiamo un'offerta di Cristo Per 100 sub 100 sub per Cristo 100 sub 1 100 sub 2 100 sub 100 sub 3 Chiuso per Cristo 100 sub 2 sub Ragazzi ho fatto vedere La foto profilo Del gruppo Con verro Che verro bronzo Verro bronzo Tutto impettito Allora Cristo Ti spieghiamo Ti spieghiamo il gioco Mi spieghiamo il gioco Mi spieghiamo il gioco Mi spieghi Mi spieghi Noi adesso avremo in un posto pericolosissimo In cui bisogna prendere oggetti E riportarle alla nave Quindi tu vai là E li prendi e riporti qua E basta Ok In realtà Leo Ti correggo Perché oggi voglio tentare Una tattica Un pochino diversa Ok In questo gioco qui Noi dobbiamo prendere oggetti Sì Ti spiego Allora sostanzialmente Questa è la nostra navicella Noi atterreremo in un pianeta In questo pianeta dove noi atterreremo Dovremmo entrare tutti quanti All'interno di una struttura Questa struttura sarà piena di mostri Quindi stai con noi Oh no Paura All'interno della struttura Se tu premi Se ti hai premuto il tasto Cioè se premi una volta il tasto destro Ti uso uno scanner Questo scanner in giro per la struttura Ti fa vedere degli oggetti Che tu puoi raccogliere Piuttosto che portarli alla nave Ragazzi Gli oggetti Buttiamoli fuori Dal Cioè all'ingresso In modo tale Che poi alla fine Li portiamo nella nave Così evitiamo di fare avanti e indietro Impilmente tutte le volte Ma tu l'hai sentito Sto coglione No ragazzi Ragazzi Allora stabiliamo una linea di comando Io sono il capo Però Tu sei il mio vice E dai gli ordini a loro Io prendo solo i soldi Io voglio fare Io voglio fare il valvasore Sei stupido Vai vai tu puoi fare il valvasore E Cristo mi dispiace Io sono lo schiavo sessuale Perfetto Comunque è quello che pensavo Qua dal computer Cioè perché l'ultima volta Non abbiamo notato Ma quando siamo Atterrati sul pianeta Nel computer ti dice La mappa è dove sono i giocatori Ed eventualmente Voglio aprire e chiusere le porte Io ho visto C'è gente che sta qui Ferma da aprire e chiudere le porte E' noiosissimo Se andiamo dentro l'avventura Sì Però magari La prossima volta Invitiamo qualcuno Che non fa streaming E sta qui Dobbiamo arrivare Sì Sostanzialmente Quella la cuota Deve arrivare 130 euro E dire a questo punto Di Grazie La offer 98 Per l'abbonamento Per sette mesi Benvenuto Scrivi di toglie Scrivi di toglie Scrivi di toglie Scrivi di toglie ragazzi sono le 8 io dovrei essere a scuola entro le 12 io alle 16 ragazzi io alle 10 e mezza che schifo il culo di leo anno era di cristo che siamo tipo dei rumeni no fra guarda umorismo sui rumori da feta tempo cristo cristo faccio la parte più divertente questo gioco ora dobbiamo prendere torcia e walkie talkie sedia sedia papà io dove sono con noi tranquillo non si vede una ciospa è finito a posto grazie a di una struttura di oggetti io faccio la porta c'è una porta mi sto un po cacando addosso leo che non vedo niente allora qui c'è un uscita e nient'altro in realtà dai se usciamo e diamoci un bacino oh tra una frusta puoi fare una torta per favore che il compleanno di cristo leo non fai ridere nessuno leo non fai ridere nessuno leo non fai ridere cosa ok ma dove cazzo è arrivato non lo so ma mi sono tutto spaventato non ci sono cristallo lì dentro mi sono messo un cacca paura ti sei fatto la cacca paura si la cacca paura andiamo rientriamo vediamo se c'è va bene è lì sotto si mi sa che è lì sotto brother no non lo vedo è lì in fondo non ci voglio andarci dove sono leo e cristo io l'ho sentito urlare io credo che quello sia il ragno allora tecnicamente il ragno è più lento di noi quindi se ti fa insegnare io non ci voglio andarci io credo che quello sia il ragno allora tecnicamente il ragno è più lento di noi quindi se ti fa inseguire e poi scappiamo fra mamma mio mi cacca addosso vai vai la oddio ciao frazze grazie del ride vai tutto dritto ciao ragazzi benvenuti attiralo o lo sei li sento li sento mi sentite ci sentite tornate indietro boys si era un palo mi sto caccando addosso siamo qui dietro siamo qua siamo qua siamo qua venite venite scappa 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 che cazzo era cos'era ma prendete questo prendetelo ragazzi mi sono fatto la cacca addosso io parecchio parecchio decisamente e sto ancora cenando ci ho già cagato la cena ma decisamente ma leo ma leo non è uscito vuoi tornare indietro a prenderlo cristo ma come leo è morto ragazzi stiamo sicuri no non è morto ma no raga è realistico ti sfido a giocare e non avere paura brother allora drog drop egg beater e drop eccolo qua questo lo posso buttare perfetto davvero giovanni anche a te quanto siamo così siamo torniamo indietro dobbiamo prendere leo raga 8 siamo 80 ci siamo persi leo ragazze una domanda ma il credito c'è di tutti ognuno il suo no 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 è di tutti allora tecnicamente va bene perché possiamo arrivare con gli altri giorni se ce ne andiamo tra un po leo vai si sono sopravvissuto sono scappato da cosa due volte sei vivo finalmente non ci credo ragazzi sono le 4 di pomeriggio dobbiamo andare via ok 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 perché che succede dopo c'è la merenda i mostri spawnano i mostri scattivi c'è la merenda c'è la merenda questo è un problema ragazzi sono dei poligoni molto spaventosi chat ok oddio oddio leo tutto apposto queste cose sono arrivato sono arrivato sono arrivato non l'hai mai seguito mi ha messo in un angolo mi ha detto che ero bellissimo e mi ha toccato i capelli disgustoso oh hai portato un una scheda madre di power bravissima cazzo ma io non c'ho voglia di bps troppo alto e la live laggata ho potuto dirmelo possiamo dare possiamo dare grazie ragazzi grazie sarà un problema prossimo pianeta what in che senso ragazzi dai almeno un gagno non ci ha ucciso mamma io allora siamo andati bene siamo andati bene ah io sono il laziest employee io non sono niente io mi son fatto malissimo comunque ragazzi come sembra una cosa quando prende un oggetto in alto a sinistra vedi che c'è 0 lb eh quando prende un oggetto quel valore aumenta che è il peso che stai trasportando quindi la salina che si consuma prima ma è una cazzata in manico che stai dicendo alle pista per leonardo brugnara coglione è vero ha assolutamente senso va bene allora quanto siamo siamo a 103 allora allora un attimo un attimo fatemi controllare una cosa fatemi controllare allora 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 ragazzi allora check ok leo hai cacato? no nel puzzo ok a posto poldo hai cacato? si ah leo tu dovevi poldo tu dovevi anche prendere gli snack presi gli snack ho dimensiare gli snack bro nooo cristo 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 non sbagliare hai cacato hai cacato? dovrei cagare adesso in realtà eh si però fallo prima che scendiamo ok ragazzi bravi comunque ok ok pensavo peggio pensavo peggio small pipi small pipi small pipi small pipi small pipi col 2 e voi siete stupidi non è vero small pipi small pipi small pipi dove andiamo? fa un colo eh sempre stiamo andando ufficialmente a Bari siamo sempre in questa mappa se volete possiamo comprare il walkie talkie maybe? no no non ancora comunque Bari me la ricordavo diversa ok forse a pagantare me la ricordavo più calda meno calda inside allora prima delle 5 dobbiamo andare via ricordate ok ok alle 5 alle 5 alle 5 c'è la merenda in ludoteca alle 5 arriva mamma arriva mamma si esatto arriva mamma chi entra per primo? entro io entro io entro io entro io perfetto dovremmo esserci ah la ciotto metto che sono utili le talkie lo so ma non sono essenziali ah ok devi anche cacciarossi sopra allora ragazzi poldo? poldo? poldo gaming? dove è poldo gaming? allora amici di qua questa porta è chiusa perché non c'è nulla però si scende sotto vediamo si vuoi che non mi rovo in quale ragazza sei notissima nuova si vuoi e compagno andiamo ci separiamo l'ho sentito ha squicquato silenzio mi hai fatto paura non ti abbassare così a caso noi siamo nei tunnel raga fra di là è buio allora occhio al soffitto l'hai sentito di nuovo vero? l'ho sentito eh vai tu ti seguo porta chiusa niente bro a destra non sei andato a destra non sei andato bro guardare gaming gaming youtubers qua sopra c'è c'è questa porta non c'è un paio di chiudere ok meglio così anche la anche la giù non c'è niente dove siamo stati noi e allora l'unico passaggio sarà qua dove? allora a sinistra vai a sinistra a sinistra non siamo andati più a sinistra noo stai che io non voglio andare a sinistra non si mette niente sinistra è finito eh fate un paio ogni tanto scanzionare 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 qualcuno da una navicella deve aprire le porte sennò qua non si fa nulla eh ragazzi però siamo tutti in trasmissione come si fa? eh devi andare ad una navicella vado ad aprire la porta dal computer dai vado ad aprire la porta dal computer alla navicella vado ad aprire la porta dal computer alla navicella ecco ah non ce l'ho anch'io oh chi è che ha fatto Big Bolt? eh mi sa che forse è Leo ma lei ha dato da aprire la cosa no? si stai davanti a sta porta stai davanti a sta porta dove sono ragazzi che non sono? eh non lo puoi sapere però ah ok hai l'ucidì anche tu sono contento Franco! porco Dio la smette di campare Akislov Paolo! l'ho vestigliato ragazzi ti chiedo scusa Akisluuuu chiedi scusa con la mia presenza Akisluuuu io mi sto impegnando l'ho messa mia ricorda ti sta impegnando? bravo brother così ci avrai più spon... non ho ancora vestigliato ragazzi ci avrai più sponsorship allora due sub e vestiglio fortissimo no Fra no oh no ah l'ho aperto ah l'ho aperto ragazzi che bucaga no fermi allora se non ci vede non ci fa nulla fermi allora quello era sicuramente forse no 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 mi ha chiuso la porta no ragazzi no raga io sono fermo raga dove siete? non c*** ti sa colto leo leo porca puttana porca puttana perché chi usò quel bastardo? ok ee... 2 minuti scale ok seguitemi ti seguo ti seguo sarà questa intendi bro la fire exit seguiamo poldo gaming io ho visto una cosa terribile allora abbiamo pochissimo dobbiamo prendere qualcosa e andare via no no dobbiamo correre zi ma tipo 30 secondi neanche ok qua c'è qualcosa ok l'ho preso un'altra ok ce l'ho ce l'ho c'è un'altra cosa e io sono lento io sono lento io sono lento no 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 fine fine c'era una chiave le quattro vanno bene vanno bene abbiamo fatto male al corpo mi sono buttato ho fatto male male al corpo è fatto molto male leo era alla nave donna vedi che è tornato dentro se è tornato dentro lo meno lo picchiamo tutti ci facciamo tipo una lista di gruppo però 42 42 42 46 siamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando mi è piaciuto lo scherzetto sei un cretino c'erano dei mostri dentro lo so lo so li ho visti ma come li hai visti ma che razza di lavoro di squadra è questo c'erano i pallini rossi fatemi cambiare la categoria c'erano i pallini rossi li vedevo io non ci posso credere ce l'hai tu volevi chiuso la porta di quando il vostro era vicino e poi l'ho riaperto sei uno stupido sei uno stupido comunque ragazzi allora ragazzi allora qua su questo monitor vedete qua dove siamo potete usare anche questo e scrivere view monitor e vi fa vedere dove stiamo e scrivendo la porta l'apri e la chiude esempio c2 c3 se cercassi invece la sedere gambe il 34 no ho già cercato ho già cercato il 34 di gerry scotti di maria dei filippi e di shark tales però c'è di sedia perché non vendere dici di fare altro looting compra al 58 per cento ma facciamolo ma indiano scusate ragazzi ma se moriamo il problema è che poi non per avere il cento per cento che adesso ce l'ho compra facciamo un'altra un'altra luce che sta scritto una cosa ma guarda come lo prende poi è scritto urine deep access file minchia comunque io ora dove ragazzi col tasto destro sul tasto destro qua vi fa vedere quanto abbiamo guadagnato amica bene 227 cos'è quello cos'è quello è un uccello il sole rosso perché siamo in puglia benvenuti in cina ragazzi e moriamo tutti perdiamo tutto quindi non ha l'ultimo giorno nessuno ha capito le mie battute no mi sa di noi siamo in puglia no nel senso il sole rosso schibi di toilet oh no merda c'è il gaming c'è schibi di toilet ah raga qua c'è una chiave prendila cosa può fare oh mio dio io non lo faccio io non lo faccio alza leggermente la gamma vado qua c'è un altro è l'altra volta sì di qua quasi salta da tutte le parti raga io non mi fido però io non voglio saltare ragazzi ho paura andiamo di qua andiamo dove lì si salta salto gaming c'è la porta qui eh però noi non siamo dei grandi gamers eh non c'è perro attenti agli abitanti di bari James James dove dobbiamo andare? ah boh chi è questo? oh bordo no non venire di qua non venire di qua c'è un bel ragno abitanti di bari ok io ho una chiave e una vite io ho una chiave e basta sono masturbaci allora il ragno non si triggera un gran cago con due elettroce ragazzi il ragno non si triggera fin tanto che non non usiamo cioè non tocchiamo le sue rambi a tele ah davvero? qua non c'è niente qua non c'è niente di qua ragazzi mi scango tutto vediamo cosa c'è qua fate da su destra la spam ciao lì c'è qualcosa no non c'è niente no non c'è niente è schifo è schifo ok qua è finita sta parte con c'è niente hai vomitato praticamente no no è un rutto era un rutto a me è arrivato piuttosto vomitato ok se è troppo sensibile qua non c'è niente oh ho trovato un posto ho trovato un posto raga 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 segna 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 andiamoci c'è un rango prima per questo l'avremmo evitato venite da me oddio ci hanno lasciato soli cristo cristo dove sei? sono qua sono qua puoi stare attenzione per favore guarda che lo so che sei tu leo stupido madonna di qua c'è una strada vedete oh uno scabello è uno scabello ma è bellissimo questo è lo che posso aprire la porta posso aprire la porta ho una chiave aprile l'ho aperta wow oddio scendiamo ma apporto? qui c'è un engine qua c'è un engine raga prendilo prendilo portalo portalo niente ricordi la strada? ehm no allora vado io con sedia ok ok vuoi via di sedia? di qua? di qua però qua c'è su qua ci siamo? si si ci sei uno di qua qua ci sono i tunnel è un f***g sgabello ci sei bro? si si sto dietro di te no ops i i i i i è così che si sente Peppa Pig di solito vero? che vuol dire? è nelle sue avventure ma che cazzo dici però ma ti pare? ehm questa cosa mi fa più paura di mercoledì Adams ecco qua ci siamo? no aspetta mi sa che era di si si per forza nel dubbio a destra? dove sei bro? eh qua? bro potrebbe essere che ci siamo persi eh? vabbè no 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 di qua di qua seguimi allora dove sei? qua sempre dietro dietro? vai però non dire che ci siamo persi dai di qua dovrebbe essere chiuso ci sei? si qua qua a sinistra? oh ma stanno i no siamo tornati indietro proprio siamo proprio dei ritardati allora di qua destra sinistra destra vi siete persi si ci siamo persi oh siamo off siamo fuori siamo fuori ok gg li senti? li senti gli stupidi? si vado 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 ultra istinto schibi di toilet sono le 4 bro andiamo alla nave prima che vuoi entrare un attimo dentro e urlargli di tornare indietro vai 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 torna torna io ho l'engine ci sono le cavallette bro eh io non ci vado lì in mezzo no no non ci vado proprio ok siamo tornati ci siamo guardate quanti soldi sono tipo 2000 euro almeno allora vediamo che cosa dove sono i loro ok c'è credo poldo che sta tornando lo dovrei vedere lì stanno devono tornare raga devono tornare ce la possono fare sono convinto che ce la fanno ce la fanno dai sono poldo 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 però vedi che fra poco spawna la roba ce ne dobbiamo andare tipo instant e lo so però devono tornare quei baboon li hai chiamati li ho chiamati ma non ce la faranno mai ok ok preparate a chiudere le cose le porte e io parto oh appena vedi mezza cosa spawnare lì fuori va bene va bene non ti preoccupare grazie sono le 6 dobbiamo andarci se perdiamo tutto questo se perdiamo tutto questo non ti preoccupare siamo ancora vivi siamo ancora vivi non ti devi preoccupare minimamente stai tranquillo allora stai in silenzio perché i i cosi che spawnano sono scechi quindi sentono il rumore del microfono quindi stai in silenzio bene va bene stipidi toilet senti io parto mi interessa no no aspetta aspetta però io parto non partire aspetta hanno 10 secondi 10 9 8 7 io parto va bene mi dispiace sorry sorry not sorry mi dispiace per loro però grazie cori dei 200 dovevano arrivare prima quando li ho chiamati dovevano arrivare mi interessa e via arrivederci arrivederci ragazzi freddy fuzzberry illegale freddy fuzzberry illegale eccoli qua ah sono morti no quindi erano davvero morti come cazzo erano morti non l'ho visto ragazzi eravamo fuori dalla nave siamo morti perché siete partiti mi stavamo chiamando non è sì siamo morti perché siete partiti non è vero ma lì che è vero porca puttana a che punto eravate dove eravate ma lì alla scala ma dai non è vero ma porca puttana eh vabbè no 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 ragazzi ragazzi io invece non sto mentendo ragazzi ragazzi se rimanete sul coso esce mist in action non esce morto come siete morti cadendo da una pastarella davvero siete proprio dei baboon non ci posso credere assolutamente baboon che non siete altro guarda due baboon allora raga in chat ci consigliate di mettere in vendita solo le cose e che per arrivare alla quota e le altre le conserviamo ma era quasi è una buona idea però a noi dopo a pollo dobbiamo comprare ci serve da comprare sì sì infatti facciamo il conto facciamo il conto io prendo un motore quanto vale 182 in totale il valore il motore è 20 questo è da 20 io lo so questo vale 21 quello che in mano che devo portare io stupidone aspetta 48 mi dicono che dobbiamo vendere tutto se no moriamo perché il capo pensa che li stiamo rubando poi quindi devono vendere tutti mi sa no 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 quando mai prima no 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 assolutamente semplicemente siete dei coglioni io ho fatto 20 poi dove hai tu tu hai 48 quindi per 68 quanto vale il tuo 21 ok 89 come ciccio il mio vale questo vale 20 ok 109 139 ma se è tipo la cassa e manca qualcosa da uno mettiamo quello che vale meno quello da 15 aspetta io non lo so perché stiamo questo da 15 però questo qua la will no no la will la will la will vale 27 con questa arriviamo questo vale 15 ah ok 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 vai ora bisogna fai il campanello Cristo farò tu perché io premilo un sacco di volte stai in silenzio guarda come si è cagato ho preso subito a sto giro ok quindi abbiamo il centro fatto dove siamo a posto yeah who did it siamo dei bravi schifi di toilet no siamo dei allora questo mettiamolo nell'armadio momentaneamente quindi la città mi stavano mi stavano dicendo ah perda perda fermo eh devi tremere 20 volte il campanello Cristo si si ragazzi io capisco che sono piccolo però non sono i tre inconglionito no allora compriamo come puoi dirle su cui c'è l'airworld puoi dirla puoi dirla oh ti 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 si mi ci chiede amici quante torce compro boh due compriamo compriamo tipo ti ammazzo te lo giuro ti ammazzo ma ragazzi io vado a fare la pipì arrivo oh ma fa la pisnia fa la pisnia oh c'ho il pipo di fuori ragazzi un attimo no no raga stavo facendo la pipì la sedia di due gambe leak la sedia di due gambe leak apri la porta ragazzi che puoi lì che pipo ragazzi zitti cosa vuol dire che questa roba dello storage ma che ne so io small pipì non lo so io sono calbrese allora flashlight 4 siamo degli attimi compagni io walkie talkie gay perché walkie talkie si finisca la mia cena walkie talkie servono due almeno uno non serve a niente walkie talkie prendo due walkie talkie e uno sta alla nave magari no no poi perde il content quello della nave ok faccio faccio due walkie talkie in modo che ci dividiamo in gruppi da due ok 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 perfetto lollo lacustre ti volevo salutare ciao bello abbiamo 257 di quota minchia facciamo sempre exploration come pianeta poi proviamo a cambiare quanto abbiamo qua aspetta oh mio dio ti stai zitto porca puttana oh smettila 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 sei fastidiosissimo è proprio dello skinny toy ragazzi ve lo giuro è la frase è il costo giusto ma siamo già a 90 quindi siamo a 90 siamo a 90 ok quindi sempre quindi sempre sud della puglia si esatto ok lanship going fucking crab apro lo sai nell'inventario cosa so nell'inventario oh no ho avuto una frusta in mano non ci ho fatto caso mettila dentro allora siamo a più di 90 la frusta valeva tipo 38 quindi siamo a 128 a me dice che siamo a 87 sì perché non te li calcola tutti se vedi ah ok ci siamo ragazzi buona innanzitutto buongiorno i walkie talkie aspettate un attimo dovrebbe atterrare a breve ah dovrebbe arrivare Freddy Fazbear arriva alle 9 e 16 perché arriva ogni ora allora aspettiamo che palle che palle non è una brutta idea l'ip di sedia ci sta eccolo eccolo ragazzi per 20 video il mio allora io e sedia l'hai presa con il walkie talkie l'ho preso io se io ti parlo così proviamo 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 mi senti come si attiva il walkie talkie non ti sento allora drop walkie power button allo 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 no allo allo adesso mi senti ora ora ti sento tu mi senti ok perfetto si si ti sento anch'io ottimo ottimo perfetto ok ok a posto ci siamo arrivo 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 io se ne andiamo alla fire exit voi andate all'entrata principale va bene facciamo un sacco di soldi adesso andiamo a tavoie siamo dei veri siamo dei veri business no Leo madonna ci sei? eccomi si si andiamo al la fire exit noi leo leo mi senti leo leo mi senti non funzionano una sega sti cosi leo mi senti vabbè tu entri intanto ok siamo dentro ma siete sullo stesso canale? e non si può cambiare canale quindi immagino di si leo? leo mi senti? non dà segni di vita per me è morto leo 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 mi senti? mi scaca mi scaco tutto brother non so perché non so perché dopo proviamo a capire vuoi vedere che l'ha spento il walkie-talkie lo stupido? oh steering wheel allora io purtroppo ho solo uno spazio bro avevo la chiave e adesso c'ho sia la flashlight che il walkie-talkie oh guarda qua buono questo torniamo leo leo mi senti? leo non scarico la doccia così non sento niente leo è comunista vabbè tu ti hai in acceso prima o poi ora mi senti? mi senti? che vuol dire? che non è stato per la prima metà del salto ma per la seconda non trovo quindi Cristo è morto? Cristo è morto oh ok allora noi siamo abbiamo trovato una cosa grossa quindi ora torniamo un attimo alla nave però poi torniamo indietro no no ma l'ho buttato qua l'ho buttato qua vieni la Fire Entrance sedia sedia mi senti bro? leo sì sì Poldo dove sei? sono all'entrata la Fire Entrance ah perfetto perfetto leo credo mi abbia fatto uno scherzone leo 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 era un prank vero? leo 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 sì però sti cazzo di waltitolki leo lo sali bene secondo me leo mi stava trollando no più che altro perché si consuma la batteria ed è inutile leo questa è locked io ho una chiave ah no allora apri questa risposto quale? questa dove sono io qua c'è nera un'altra l'hai provata? apri questa apri questa ok c'è questo wow questo si tolto increased level of radiation non so cosa sia bro eh forse lì dentro forse lì dentro bro io non posso andare troppo veloce quindi torniamo indietro torniamo indietro? mi sa che era comunque tardi eh di qua ah ma è tolto la luce totalmente eh forse togliendo il il power sì però questo vale un sacco di soldi eh eccolo là va bene prendi il waltitolki buttala a me buttala a me tu usa il waltitolki eh sedia eh leo leo ci sei? allora allora quello di prima era uno scherzone come sta? eh però ora hanno stanno mi stanno è successo una cosa brutta in certo tutti mi stanno dicendo corri scappa corri scappa io sto sentendo dei rumori probabilmente muoio 100% muoio sono in un altro sì mi sta dicendo che muore io ve lo dico quindi quindi vuol dire che muore che sta succedendo un casino da lui non sa che cosa sta succedendo che sta succedendo vuol dire cosa c'è eh leo leo esci fuori da lì esci fuori da lì e torna alla nave immediatamente non so come si esce non so come si esce ma come non sai come si esce sono bloccato la torcia è finita la torcia è finita la torcia è finita dobbiamo andare mi ho paura oh Dio vabbè ragazzi lo dobbiamo lasciare F per leo tanto già il reattore vale un sacco di soldi eh pensiamo a pensiamo ai soldi dai pensiamo ai soldi eh oh non hai altro? non hai raccolto altro? leo no non ho raccolto altro leo sei morto? sono le 5 noi dobbiamo andare via leo è finita la scuola di ballo? senti ricaricati il cazzo di walkie talkie andiamo ma come che si ricarica? leo bellissimo bro sto partendo entra vabbè ciao leo raga gg gg leo è morto come leo è morto? come leo è morto? grazie del terzo mese io ero tipo leo mi stava implorando pietà io tipo vabbè Giorgio è andata grazie a Pier Giorgio e grazie a Dali per il terzo mese Pier Giorgio vediamo eccoli di nuovo morti è morto anche Cristo? quindi Cristo era morto Cristo è caduto ah dal cielo leo ci vuoi spiegare che cosa è successo? allora ragazzi a un certo punto io mi sei sfinita la torcia quando sono aumentate le radiazioni tutta la chat inizia a scrivermi corri scappa corri corri scappa non capisco dove andare vado in un angolino ti chiamo con walkie talkie pregando di arrivare sento dei rumori dal muro seguendo il muro mi esce da sopra uno scarafaggio enorme che mi guarda per un secondo e poi mi sciotta io lo stavo aspettando era molto divertente sembrava io salto bello mi piace è andata bene vedo è andata bene allora io sono molto io sono molto un buco bello abbiamo perso tutto noi stupido allora facciamo così droppagli la tua torcia sedia così usiamo la mia e si ha senso però serve un walkie talkie si si è carica vai a prendere a te questo grazie ti prendo un walkie talkie ti prendo un walkie talkie leo però a sto giro non consumate la batteria perché serve ma guarda che non guarda che non la stavamo consumando guarda che non la stavamo consumando io ho fatto la la stupidata di prendere la torcia l'ho accesa e sono passato al walkie talkie e quindi è rimasta accesa e non me ne sono reso conto ah che stupidone allora adesso la uso io sono più responsabile responsabili ragazzi responsable perfetto perché wolf che succede schibi di toilet schibi di toilet schibi di toilet schibi di toilet allora condition arid worsened by industrial artifacts siamo già a 200 siamo già a 200 qui eh 200 no ma voi siete morti però siete morti quindi siamo a 144 questo vuol dire che c'è una meno tipo il meno 40% ci toglieva ma no ragazzi ragazzi evitate di morire però eh sì no walkie talkie walkie talkie Eh, stiamo aspettando Sedia, sedia Ti faccio un'imitazione Chi sono? No, stupido Stupido Leo, noi andiamo Quando accendi il walkie-talkie Chiamami Buon gaming, sedia Io aspetto il mio compagno Grazie Molto bene, walkie-talkies Usiamolo per le comunicazioni importanti Ok, walkie-talkie Walkie-talkie, walkie-talkie Lo senti solo tu, quindi ho Ma che palle, perché lo sento solo io? Perché lo sento solo io? Ma che palle sta cosa? Ho sentito qualcosa, bro Ah, ma li sento Ah, nemmeno noi Uno sgabello Ma io li sento Cioè, sedia Ma io No, bro Ci sei? Eh, ho paura, ma sì Eh, lo devi fare Mi punti la torcia, per favore, almeno Aspetta che qua Ma perché è tutto così foghi? No, ma tanto non c'è niente qua Ma come? Eh, siete inutile Nooo Eh, io non vedo nulla, però Serve la... La chiave, bro Ok, sono vivo Ho fatto il gaming Ok, gaming Eh, qua non c'è più nulla Eh, non c'è più nulla Di là, di là mi sa che c'è un macello, brother C'è un macello? Eh, senti, volevo urlare Mi sto cagando addosso, chat, ve lo giuro Warning, please return Eh, è morto Cristo Ah Ragazzi Nooo Ma che vota? È morto qualcuno Ha votato Sbrigati, vai, vai, vai Immagino non ci sia un ragazzo Visto che non c'è risposta Eh, no, no, no Leo, Leo Torna alla nave Perché Cristo ha votato Di tornare indietro subito Madonna Cristo e Sparpol Ti mangiasse i rivermi Ma Cristo Non devi tenere premuto il tasto destro Partiamo subito così Eh Madonna Abbiamo rischiato di perdere 200 di scrap 200.000 euro Ci sei, Leo? Eccoti, ecco Sembra una bestemmia Se dico mannaggia a Cristo Sì, non so se ce la faccio arrivare in tempo Non so se ce la faccio Sono qua che sto saltando Ma guarda che ti vedo stupido Guarda che ti vedo Guarda che ti vedo Guarda che parte tra un minuto Ok Adesso è partita A parte Fatemi chiudere la porta Let's go Ho questa Eh, meno male Almeno abbiamo preso una cosa Anch'io, anch'io Anch'io Adesso Adesso voto per tirare un pugno a Cristo Madonna Cristo Si sta facendo perdere tutto Mannaggia a te Visto va troppo Prepaura È vero È vero raga No ragazzi Mi dispiace Non lo sapevo Ma com'è morto? Tra l'altro Cristo Da uno slime Perché c'era lo slime Che sapevo Ragazzi Mi dispiace Non lo sapevo Sì, ho sentito polvo E ho detto la stessa cosa Bravo, bravo No, sono serio Cioè io sono morto Sono entrato C'era già lo slime Sono morto Senza neanche vederlo E boh Ho cliccato il tasto destro Allora Hai fatto male Lo slime ci ha campionato la porta Io sono entrato E ho speedrunnato Cristo è entrato Ed è stato shottato E vabbè E vabbè E vabbè Corro Corro velocissimo Corro velocissimo Corro velocissimo Corro velocissimo Ragazzi Proviamo a prendere più roba possibile E poi andiamo a consegnare Ma siamo messi bene? Va bene Ci siete? Ma siamo messi bene? Andiamo 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 boys Andiamo ragazzi Andiamo Let's go Le siamo Tecnicamente Ragazzi io chiedo scusa A tutte Chiedo scusa A tutte le chat Per essere Ma non è un gamer Mannaggia Paolo Devi calmarti A tolto A tolto A tolto Facciamo la foto Facciamo la foto Facciamo la foto Però non avete la torcia adesso Io sì Beh io ho il walkie-talkie L'ho salvata Quella di crystal L'ho presa su Ah ok 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 Io ho il walkie-talkie L'ho appena acceso Ho sentito la n-word Walkie-talkie Walkie-talkie Motherfucker No spregate Walkie-talkies Walkie-talkie Ok allora Tengo la No no La spreco Non la spreco Compe il mio in chat Let's go Allora Ok E io ho già trovato una Una mega vite E' finito No qua c'è la porta Per uscire Ah no Eccola Sì Allora Vabbè vediamo prima subito Qua non c'è nulla Qua c'è una vite Cos'è lo scanner ciccio E lo sto usando Ok perfetto Perfetto Allora mi ha detto Che hanno portato Una vite E un'altra cosa All'entrata Quindi nel caso muoiono Dobbiamo andare a vedere Perfetto Noi invece Stiamo per lustroni Bro Ready player one Siamo vicini Sì E mi sentite Siamo vicini Vi sentiamo No cosa ho qua Sto qua Chiaro chiaro Vabbè vediamo se riusciamo A vedere Wow Raga mi sto Sto impazzendo Vedo che è partito Un pompe il monumento Alle cinque Parte la nave C'è però Alle quattro Però alle quattro Meglio se stiamo là Non c'è un cazzo C'è un cazzo Oh cosa No Va bene Va bene va bene Va bene Ok Non so che cosa stanno facendo Ma forse muoiono Va bene Ah ok Ok grazie Perfetto Perché muoiono Che stanno combinando Stavano cercando di fare il gaming Momento Leo c'è riuscito Perfetto ragazzi Bravi ragazzi Sono riusciti a muoversi entrambi Di qua siamo andati No però Oh stupidi Oh seria Poldo 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 Stiamo qua Poldo Poldo Ok Vieni qua 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 Alla cassa All'entrata abbiamo messo un sacco di roba Abbiamo fatto un sacco di goduria proprio Ma tantissimi tantissimi soldi Siamo pieni Abbiamo fatto un sacco di soldi Ci siamo persi mi sa Non era di qua No non era di qua Ma che macchina parte Ma ci sono quelli Due secondi Alle quattro Alle cinque Non mi ricordo E che pescono Eh non lo so Non so Sto dentro voi Vi dovete uscire a vedere l'ora Sì Infatti stiamo Intentando Perché la traccia non funziona più ragazzi È finita la batteria Ma la batteria non è tua piena No ragazzi ci siamo persi Non mi ricordo dove è uscita Eh proviamo di qua Ah ok ok Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Mi ricordo Venite 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 Io seguo mio papà La seguire Venite 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 Eh di qua comunque È perché stai sul disco Di qua Di qua Discord mod Discord mod Sono qua Sono qua Sono qua Ok fermi Fermi Ma no che senso dell'orientamento Però che c'è Eh no in realtà sto tentando Però era dovrebbe essere di qua Ok Eccola ci siamo Ci siamo Uscite Ok E noi dobbiamo andare All'entrata a prendere il resto Ragazzi io sono Io sono un cane da battufo proprio Bravissimo Mamma mia Vorrei essere bellissimi Tadavere Troppo forte sedia Mamma mia Ragazzi siamo i gamer Ti ha le mani di morte Vada a prendere le roba Io ci vado Sto prendendo Io ho una mano libera Quindi mo la prendo anch'io Grazie mille Just Nick Per il Prime Secondo mese Ben tornato Carissimo Grazie mille Nick Qua c'è rimasto una cosa Grazie mille davvero Per l'abbonamento Qua c'è rimasto un bolt però Ragazzi c'è rimasto un bolt dietro Voi siete pieni? Sì Vabbè c'è il tempo Se qualcuno vuole andare Tempo Tempo di gamers Andiamo a posare questo ragazzi E abbiamo fatto il fottuto gaming Penso l'ultimo viaggio arrivo Sì sì È solo una vita E quindi fai subito Ok ok È stata disastrosa Ma non bateva Ok Abbiamo fatto una frega di soldi Madonna raga Questi sono più di 300 euro Ragazzi Con i soldi ci andiamo a buttane vero? Ora capiamo No Comunque torna subito Perché ci sono Ci sono le api Quindi torna subito Ma non sono api Ma le api qua sono l'altra parte Eh però fai subito lo stesso Vuol dire che ora non siamo più YouTube Ma siamo imprenditore Torna dai Per piacere Eccoci ragazzi Perfetto Sto gioco è tipo vinte Dove che cazzo? Vuol dire? Sto leggendo la chat Bravi ragazzi Bravi Io voglio dire bravi A tutti voi gamers Bravi a tutti voi gamers Bravi bravi davvero Siamo dei gamers Tutti bravi Tutti bravi Siamo dei gamers Viva Viva il gaming raga Viva il gaming Tutti bravi Il gaming Guardate qua Cioè sembra 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 casa La camera di Christo is purple Per quanto è sporca Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Sto scherzando Bravissimi ragazzi Christo Ma non è vero Sono stato bravissimo Sto giro Applauso chat Applauso in chat Ok andiamo a vendere Andiamo a vendere Andiamo a vendere Ragazzi ci abbiamo tipo 2000 euro Voldo sedia Noi quando abbiamo comprato il gioco L'abbiamo pagato tutti 8 euro a testa Sapete che c'era il bundle Che se lo compravi con gli amici Costava 3 euro a testa Vabbè vacca caro Vabbè ricarica la torcia Sì sarà il bundle Che se lo compravi Quanto costava Con lei Oh mio dio Io non la sapevo Allora Chi lo fa Vediamo tutto Allora faccio un calcolo Vai Quanto dobbiamo fare 2,57 2,57 Allora Passate Prendete quelli grossi E passate Dissendomi quanto vale Allora Questo non lo so Vale 47 47 47 di Poldo Tu? Cristo tu? Non lo so 46 46 Con il tasto destro Ok Ok Allora abbiamo Un totale Di 93 Questo Mi dice Punto interrogativo Vale 80 Vale 80 Vale 80 Vai Porto una cassa Della birra Quanta è la cassa Della birra? Cassa Della birra 87 Cassa Della birra 87 Arriviamo a 180 Ma veramente 87 Sì 180 E la birra costa Questo è 45 225 Qualcos'altro Qualcora Qualcora da 25 Da 30 Tipo C'è steering wheel Da 23 30 Big Bolt 30 Big Bolt 30 Big Bolt 30 Big Bolt Dovrebbe bastare Tecnicamente Questo è 28 Ragazzi 28 E quindi Siamo 225 No Sì no Forse è giusto Perfetto È giusto Perfetto Possiamo pure Richiamare un'altra Volta No Sì no Ma metterei Qualcos'altro Per essere sicuri Eh Metto Questa Che costa 11 Questa Che costa 11 Bravi ragazzi Abbiamo fatto La spesa Siamo riusciti A fare La spesa Bravi ragazzi La mamma Sarà fiera Di noi La mamma Sarà fiera Di noi Bravi ragazzi Mette delle cose Nell'ammadio Ragazzi Ho voluto Fare il gaming L'ho chiamato Tante volte Vai vicino Però Vai vicino Se no Non vende Ah l'ha preso Questa Questa Hai visto 309 Alcuno ha contato male Ah no Perché c'era la roba di serie Allora che era un punto E due domande Allora valeva Allora ragazzi Allora ragazzi Un attimo Check prima di andare Un attimo Mi dica Allora Cristo È cacato Sì Stavolta sì Allora Perfetto Leo Cacata Eh no Oggi no Annaggia Poldo Quante volte hai cacato oggi Io oggi zero Sono stato troppo impegnato Come zero Ma come ragazzi Leo 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 Poldo Avete fatto la pipì almeno Scusa E tu sedia Quante volte hai cagato Sì 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 Ho cagato pure scurrigiato È che non sono arrivato Non sono arrivato Cazzo Eh raga Però non va bene Prossima volta Prossima volta Non va bene Dovete prendere spunto da me ragazzi Ragazzi abbiamo Cosa è successo Allora possiamo andare Possiamo andare Però vi dico Vogliamo provare un'altra luna Vai Possiamo provare un'altra luna Proviamo Possiamo provare Stavolta andiamo Non lo so In provincia di Cataria Dovremmo andare in Calabria Effettivamente Dovrebbe essere Un grande luogo Forse È troppo mainstream Deve andare in qualche luogo Un po' più misterioso La 20 della Campania Sud della Campania A Salerno Vediamo quant'è la nuova quota Raga 3,93 La faccia lo cazzo Ragazzi Siamo veri imprenditori Ce la faremo Ce la possiamo fare Mindset raga Mindset Raga Ma perché si è disconnesso Mi ha disconnesso anche a me Ma che baboon Ma non ci posso credere Avevamo fatto il Il gaming Tutto il gaming No vabbè No vabbè Non esiste Ehi Stavamo andando Incredibilmente bene Stavamo andando Minchia I cattivi cattivi Ma Ma possiamo ritornare A quel punto No Dai Così sono Triste Ma che palle Il gioco salva Voi che Voi che Sapete Il gaming Sede cosa ne pensi Di Roger the Clare Ora sì Sì Il gioco non salva Il gioco non salva Noi ti sentiamo Noi ti sentiamo Noi ti sentiamo Questo è per Colpa di Cristo Secondo me È stato tutto Schibbi Di toilet Cioè Non ci posso Credere Non ci posso Credere Avrà salvato Boh Può essere Se salva Inautomatica Noi ti sentiamo Noi ti sentiamo Ah ok Ok No raga Colpa di Cristo Is purple No no Non va bene Non va bene No Oddio santo Che schifo Cristo Is purple Yes Bush Cosa Cioè Ti sei corrotto Il gioco Ti sei corrotto Il gioco No vabbè Non esiste Sta cosa Ma no Dai Ma tutto il gioco Devi cancellare No non va bene No no Esatto Probabilmente No Stavamo Stavamo Facendo tutto Il gay Proviamo le altre lune Dai Facciamo un po' Di content Allora Invita Invitami Quando vuoi James Che minchia è luce luna Chi è luce luna Non ho la minima idea Di chi sia Ma ragazzi Ma vi rendete conto Di che cosa state dicendo Giustamente Andrex Giustamente Andrex Mi dice È solo un developer E in più Il gioco è in early access Cioè Vabbè Ha senso Eccoci Non sento Non sento Non sento Non sento Ci siamo Chi è stato Chi è stato Io vengo dalla luna Che il cielo vi attraverso Trovo Non portare una paura Perversa Tanto che Punta di via De sterza Vuole Mentre Sotto Sto Ignorotto Che Sì Ignorotto Sto Non ho capito Che sono disposto A stare sotto Solamente Quando Foto Non ho Impossibile Io vengo dall'universo L'ho fatto Perso Che Voi Che Ti Ti Zitti Silenzio Nessuno parla Nessuno rutta Nessuno piata Va bene Volevo dire Fate la sub Al mio canale Stupido Voldo Voldo Dato che questo Uscirà nel mio canale Di gaming Mi vuoi fare Tu tipo Iscriviti al canale Lascia la campanella E lascia un commento Anche Allora Questa è una luna nuova Al canale Cristo live No Questa è una luna nuova What Non so che cosa sia Eminem Quindi Intanzitutto Dobbiamo trovare L'entrata Intanzitutto Allora Non separatevi Non separatevi Restate uniti Tutti come Digimon Dove sei Dove siete raga Qui 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 Ma dove siete andati Leo Se ne è andato da solo Leo 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 Dove scappi Ok Dove scappi Ci siete Sì Allora Venite di qua Venite di qua Andiamo dalla parte Dietro la nave Grazie La gente mi ha chiesto Se dopo giochiamo A Stumble Guys Sì 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 Ma è nella vita Sì 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 Ci giochiamo Secondo me è una buona idea Giocate a Stumble Guys Questo è il burro E non ho capito L'entrata dove dovrebbe essere No È dicendo Dove esce nello scan Infatti Non siamo questo tanto gamer Comunque Ragazzi c'è un alveare Questo qua Se lo portiamo dietro la nave Nel retro dell'aiuto Prendetelo alveare Portatelo dietro Lo prendo No Non lo prendo Vengono da me Vengono da me Portatelo sul retro Ho preso Ho preso Ho preso Ho preso Ho preso Ho preso Seguimi Vieni Vieni Stavendo scopato Provabile Vieni Mettilo Mettilo Qui dietro Guarda Dov'è? Io sto provando È la massaggione di Fortnite No ragazzi Mettilo qua Qua Sì E andiamo Perché Perché poi lo prendiamo Quando stiamo per partire Così non ci inseguono Ah Leo dov'è? Va bene ragazzi Leo Leo Leonardo Leo 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 Lo sento Lo sento Leo Leo Leonardo Oh È morto Ragazzi guardate Guardate Leo Prendilo 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 Ah ecco Guarda l'entrata Vabbè io lo tengo Che mantico il Non lo so Cosa è quello? È cattivo Gli tiro Leo Gli tiro Leo Cosa è un'altra? No no Ma Leo vedi che si può vendere Quindi portiamolo Ah main entrance raga Eccola Si può vendere Leo Esattamente come nella vita reale Si sto portando un amico degli iNubi in spalla Ragazzi Api 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 Aiuto Aiuto Sto arrivando Dov'è Cristo? Ah è morto E Io ho perso Cristo Oh oh Tutto a posto Allora Ragazzi Io Entro Vediamo che cosa succede Dalla fire exits Vediamo una cosa voglio riportare Almeno un souvenir Un souvenir solo Un souvenir Non mi interessa che Non c'è nessuno Davvero non ho paura di nulla io Davvero Incredibile Io non ho mai avuto Che cazzarola è stato? Ok Non era nulla Andiamo avanti Devo trovare almeno una cosa Sapete Per rendere fiera la mia squadra È morto Leo? Ok Non c'è nulla Posso tornare Ma che è sto suono? Eh Deve aver cagato qualcuno Potente Non lo so Vabbè Allora Torniamo indietro Portiamo Portiamo Voldo Allora Io non vorrei Rincappare Nelle api Sento Rumore Sento rumore Vabbè Oh ecco le api Sono le api? Non sono le api? Non sono le api? Le api sono più Composte Cristo 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 Cristo? Ehi Sedia Ciao bello Ciao Ti ho trovato Ti stavo cercando Voldo è morto E anche Leo Ehm Questo vuol dire Che siamo rimasti Solo noi due Gamer Eh sì Praticamente C'è C'è Ma non sono quelle Ah Allora Io lo riporto indietro L'unica cosa è che Oddio Stanno là le api Non c'è molto tempo Ehm Allora lì Il fatto è che ci sono le api bro Di dove? Lì Lì Non le vedi? Ah cazzo Se le vedo Eh possiamo fare in modo Allora io tiro dentro Voldo E Leo E noi che facciamo adesso? Adesso tu li baiti Tu baiti le Le api E io prendo l'alveare E lo porto dentro Come faccio a baitare? Ragazzi io sono nuovo Come faccio a baitare le api? Eh niente Tu ci passi vicino Loro ti cominciano a inseguire E tu scappi Ok se muoio è colpa tua Certo certo È colpa mia Perfetto va bene Allora vieni Vieni con un po' paura Vai corri Corri veloce Io nella vita reale Ho l'apifobia ragazzi Perfetto Perfetto vai vai E sono tornato indietro Ah Eh Non è molto riuscito Come piano Eh devi essere più sicuro di te bro Che vuol dire? Eh cioè che baitale bene Io passo da sopra va Baitale è bene Dico che vendo droga È quello che gli piace alle api Ehi api Vi rubo il vostro miele Preso l'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Dai rientra dentro Perché non sale Maledizione No Stanno venendo addosso a me Ma io ho premuto Ma io ho premuto No Allora Sedia Sedia Io ho detto Mentre la nave parte Che siamo già in alto Prendi l'alveare Tu invece prima l'hai preso E poi hai fatto partire E così L L L C'è stata una scena bellissima Di te che con Paul Dove vai verso la nave Io che metto la musica Di Tokyo Ghoul Al massimo volume Con te col corpo Che camminavi Allora ragazzi Ora sappiamo Dove è l'entrata Quanto meno No è la Fire Exit Quella Non è l'entrata Ma che è sto coso? È sopra l'entrata È un albero Vabbè Ok Sì Allora James Ok Riproviamo 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 Dobbiamo rifare la stessa cosa? È in chat È in chat No È in tutte le chat Proprio Leo 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 È un enorme zucco Ah no ma aspetta Ma prima non c'era Ma si può prendere? Halloween Ma prima che partiamo andati ragazzi Ragazzi di là c'è un ponte Di qua di qua di qua Di qua di qua Raga di là c'è un ponte Ma perché non siamo saliti Scusate Ma quando ti ho detto Era sopra la Fire Exit Intendevo che era questo Stavamo facendo sta cazzata delle api Ma che c'è là sotto? Io non voglio più le api raga Oh me ne entrasse Eccola là Ok ci siamo Ci siamo gamers Complimenti Ok Cos'è quella mega caccolona? Prima non c'era effettivamente Eh raga scusatemi Ma prima ho mollato Entriamo Ah Birra Ok Abbiamo già una cosa Ma Cristo? Ma Cristo? E Cristo sta indietro Eccolo Perfetto Allora Perfetto Muoviamoci Muoviamoci nel James E seguiamo Allora Di qua non c'è nulla Perfetto Siamo piccoli A mezzo di Eri Una campana raga Una campana Suonala Non posso Come quella che dovreste Mettere voi Che state guardando il video Su Youtube Attivate la campanella Stupidi baboon Io ho trovato una cosa strana Che cazzo è Una spatola Una spazzola Una spazzola Oh Mettila Falla su poldo Falla su poldo Non c'è qua? Se ne è più uscito Va bene Di qua invece Che c'è? Niente E sotto? Sotto non c'è nulla Sotto non c'è nulla Ho sentito un rumore Ho sentito un rumore Qualcuno può andare Silenzio silenzio tutti L'ho sentito anche io Silenzio tutti Allora Se c'è una radio a te Deve Sì C'è qualcosa C'è qualcosa Non voglio seguirmi No c'è lo steam Steam leak Vabbè io vado a destra Dove c'è la luce E io non so dove andare Ragazzo Raga 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 Ok E qua non c'è niente Cos'era? Oh no Cos'è quello? Oh no Com'è? Cosa c'era? Ragazzi non dobbiamo Raga 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 Non l'ho visto Mi sto cagando Mi sto cagando Ma che sa Cazzo 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 Cos'era? Ma poldo Molto mi sa Mi sa che poldo è morto Non è morto Eh mi sa rì sì invece non lo so torniamo indietro ok che freddone che mi ha fatto venire mi sono cagato addosso allora andiamo ok 138 quanto dobbiamo fare noi 200 100 30 e allora possiamo andare easy 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 portiamo via questa abbandoniamo poco tanto è l'una e mezza mi sono cagato addosso mi sono cagato addosso mi sono cagato addosso mi sono cagato addosso un bello abbraccio sempre mi sono cagato addosso mi sono cagato addosso mi sono cagato addosso mi sono cagato addosso raga I am shit shit no 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 e rischiare di morire io mi sono cagato scaccato mega scaccato proprio dove sta la nave scusate leo 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 ok è proprio questo dire ci vediamo come cazzo non la si sale my hands are full fans shit ragazzi mi potete dire se poldo è morto ma ma io penso che l'ho visto proprio si è tutto scaccato arriviamo una persona molto grossa gli ha dato un caldo abbraccio normale foresta del frulli venezia giulia benvenuti a pordenone mamma mia che cacca scaccata che mi sono fatto non avete idea ma porden è morto è credo di sì è si è morto guardiamo dalla dal coso dalla si può vedere guardi se è segnato qualcosa credo credo di sì no è vivo secondo me no ragazzi non è vivo cielo l'ho visto proprio vabbè è vivo fermo in un angolo goodbye ok ciao ciao poldo ciao 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 adios se sei vivo mi spiace mi dispiace per lui perché io mi sono tutto scaccato quando morto ok mamma mia jesus christ è morto madonna ragazzi madonna ragazzi voi non avete idea mi sei tutto scaccato questo è quello che è successo aspetta aspetta mettiti la che ci sentiamo e ti ascoltiamo mettiti a raccontarci ragazzi mi spiego cos'è successa allora praticamente è successo questo voi avete urlato quando avete urlato io ho detto chissà che cosa sta succedendo mi avvicino verso di poi sento solo un poldo punto interrogativo mi avvicino si avvicina a me un enorme creatura che viene da me mi mi spezza il collo in 0,5 secondi facendomi prendere uno degli infarti più brutti della mia vita ecco cos'è successo lo voglio vedere adesso qualcuno la spero qualcuno l'abbia clippato vabbè è bella sta luna eh eh vedi un po' siamo troppo forti vabbè ci abbiamo l'ultimo giorno no si ritorniamo su sta luna si beh comunque abbiamo già fatto la soli già l'abbiamo fatta quindi siamo bene l'unica cosa è che adesso non dobbiamo morire ok ragazzi altre due sab e mi taglio il piede eh altre due sab e mi taglio il pene no di nuovo quanto siamo risperati per le sub perché non si vede un cazzo sto giro la nebbia no no allora seguitemi ok seguiamo leo seguite mi so dov'è seguitemi non seguendo mi state seguendo ti stiamo seguendo che c'è il burrone seguitemi stiamo seguendo voce 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 mi sentite voi c'è cosa Poldo 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 Ok come sei leo 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 Ok andiamo di qua state sul pinnacolo Leo 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 Non scendere troppo qua non aspetta Non bisogna scendere troppo Leo 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 Ok eccola la eccola in tele entrans si vede Il ponte bravo Zii sono madonna questo qua Ma se io tu sei troppo foro Raga sono caduto Si è rotto il ponte Si è sfasciato il ponte Che minchia ne so io Forse posso fare parkour Aspetta Non salite in tanti sul ponte che crolla Vado dall'entrata di sicurezza Perché questa cosa mi sembra una grandissima Oh raga madonna Mi sono cacato addosso ve lo giuro Pensavo di essere da solo Allora boys Non facciamolo più per piacere No 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 Ma tanto siamo stati bravissimi Ehm vai Cioè ma aspetta ma come fa l'entrata di sicurezza La frecciate là e la frecciate sotto Oh motore Vabbè non ti fare troppe domande bro Vediamo se c'è qualcosa altro Il bello è che Il bello è che se poi muori Ho trovato un coso giallo Si infatti tu Leo rimani Guarda tu ne puoi Ma dove puoi? E' senta il ponte però Io stesso Aiuto 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 Non ero che pò Andreto me l'ho levato me l'ho levato Dove lo sei? Stai fermo Stai fermo Allora vai indietro Girati Case것 dritto 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 seguito la mia voce sali dritto perfetto perché sono pazzo credo che sei paranoiato perché sono paranoiato via 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 abbiamo visto perché sono paranoiato come mi sono fatto una casa preso paura perché ti è morto davanti a ok adesso volete vedere che abbiamo una cosa prima di tornare a casa un viaggio che comunque dobbiamo fare tornate a casa per piacere tornate a casa il problema è senza ponte non so ci serve un senso dell'orientamento ancora più forte che stupidoni sono vai allora proviamo andare giù da questo vediamo dove ci porta dai dai hai un cane da tartufo leo puoi puoi farcela puoi farci la parte dai leo vai leo sei tutti noi vai leo e cazzo qua non so come si scende non scendete non scendete non scendete non scendete è sceso stiamo seguendo ok addio questa è la punizione per aver detto scribi di toilet lo sapevo ragazzi santo gaming a destra a destra a destra sono delle pietre e se sei due stai salendo ti tirano le pietre ce la faranno ce la faranno i nostri eroi ce la possono fare ce la possono fare dai che ce la stavina arriva che pian piano arriva dai bravi ragazzi bravi abbiamo le una mano possa avere un hype in chat io volevo aiutarle a panicato ed è scappato ma cosa bisogna fare in quel caso la panicato e scappato ma che panicato e si poteva sopravvivere io senti io stavo sentendo lui mi stavo dicendo lui sì ok qualcosa se esci sopravvivi sennò devi prenderla colpi di pala ora la compriamo dove sei parlare a parlare la nave qua vicina dai dai che ce la fanno grazie io sono di milano la nebbia sono abituato è vero è questa è questa la chiamano nebbia ok saliti qua saliti qua saliti qua devo salire a sinistra ce l'hanno fatta da qua da qua da qua ragazzi mancano due sab mancano due sab signori vai 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 cattini cristo santo guarda incredibile resto sono tipo dei passi giganti è vero senti erano passi enormi parti 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 sono partito sono già partito ma che erano quei passi giù mangi raga era giù mangi allora io non so che cosa è successo però io in realtà poldo io ho seguito quello che mi stavi dicendo però effettivamente forse non era la direzione giusta no 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 io ti vedevo tu devi riuscire a scampare perché non avevamo la pala però sei scappato e scappato giù quindi era già tempo di vendere tempo di vendita ma che cos'erano quei passi era proprio un giù mangi vendiamo tutto? vendiamo tutto? si si vendiamo tutto come tutto? allora brother allora allora leo tutto posto come stai? ho fatto cacca ho fatto cacca hai fatto cacca ti volevo solo dire bravissimo maia sarebbe veramente fiera di te zii ero come c'hai visto? tieni bro tieni piccolo scout mamma mia bravissimo davvero complimenti no vabbè questo me lo stanto cosa? è bellissimo che cosa? ok vediamo tutto? questa figurina ma mi vende? quanto abbiamo? eh a porto le 10 e mezza la vendiamo tutte buona tanto almeno da parte beh tecnicamente possiamo salvare? si 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 può salvare vai si vende si vende vai gigiti gigiti ecco si salvi e andiamo avanti la prossima volta vai si gode si gode mi piace mi piace eseguiamo la vendita ragazzi se volete un altro episodio lasciate un commento sotto questo video con scritto skibidi babidi fate un altro episodio no ragazzi non fatelo skibidi babidi non ho detto skibidi la kiave no la kiave no le kiave serve ma c'è altro? non c'è altro raga cristo cristo si premi il campanello 20 volte e poi resta lì madonna ma sto giro arriva subito avranno fixato l'ho fatto leo l'ho fatto ma non ha fatto niente me l'aveva detto lui di farlo quindi io l'ho fatto ci vediamo al prossimo episodio che bello che bello mi sono cacato addosso ci siete tutti possiamo partire madonna mi ha fatto paura è stato terribile madonna santa grazie leo leo perché non arriva boom morto era james james si è arrabbiato va bene ragazzi mi ha messo i tentacoli nel pipo mi ha messo i tentacoli nel pipo è stato tipo quei cartoni animati bravi ragazzi 23 dollari di bonus bravi ragazzi bravi ragazzi bravi ragazzi bravi 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 oggi veramente la compagnia sarà di noi perfetto dai ragazzi posso dirlo posso dirlo ragazzi la colpa la colpa era di berro fronzo è vero è vero era di berro fronzo scrivi di toilet 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 bravi ragazzi basta adesso sto impazzendo